Buongiorno a tutti e benvenuti su Scudere. Oggi vi parlo di un interessante appartamento sito in una zona comoda al centro di Santa Margherita. È un appartamento veramente molto particolare perché è composto da ampio ingresso, bagno, un ripostiglio veramente molto grande, due camere da letto e cucina. L'appartamento è particolare perché per esempio la parte del bagno e del ripostiglio come vediamo nel video sono dei semi interrati in pratica perché c'è lo scivolo dei posti auto perché qui abbiamo anche un posto auto coperto e quindi questa parte qua che stiamo vedendo è praticamente un semi interrato. Mentre la parte davanti, stiamo vedendo questo ripostiglio veramente grande e che poi alla fine del video vi farò notare anche le varie possibilità di modifica di questo immobile perché è possibile trasformarlo in soggiorno cucina ampio e due camere da letto e bagno. Comunque le modifiche sono veramente molte. Questa è la camera più grande che è utilizzata come soggiorno la quale sarebbe possibile collegarla con il bagno preesistente attuale quindi fare un bel soggiorno e cucina mentre ripostiglio con l'ingresso per il bagno fare antibagno e bagno. Ovviamente avremo un bagno cieco ma insomma merita veramente avere questo soggiorno grande con la cucina veramente grande che si espone poi nel terrazzo giardino ecco perché la particolarità di questo immobile c'è un terrazzo enorme e da questa parte in realtà non siamo neanche un piano terra adesso vedrete che ci esponiamo e siamo quasi un primo piano andando ad appoggiarci sull'alto stabile e un secondo piano proseguendo. Faccio vedere questo è tutto il terrazzo di proprietà ecco se andiamo a vedere qui siamo molto più alti dell'altra casa a fianco qui siamo praticamente a un primo piano mentre lì abbiamo il piano rialzato come vediamo mentre di qua siamo addirittura a un secondo piano se andiamo a vedere. Questo succede perché siamo in una collinetta e vedete le macchine che salgono quindi è ovvio che questa cosa comporta degli squilibri nell'immobile con delle parti più alte, altre più basse qui addirittura abbiamo un ingresso indipendente dal cancelletto che possiamo utilizzare proprio come ingresso indipendente. Ritorniamo nel nostro appartamento che vi ricordo che in realtà sarebbe un soggiorno cucina camera bagno o due camere cucina e bagno ma facilmente modificabile in più possibilità per come la vediamo noi ripeto ecco questa dovrebbe la cucina dovrebbe diventare in realtà una camera una camera per ragazzi o per una ragazza le metrature ci sono non ci sono problemi anche questa esce fuori del terrazzo comunque attualmente è una cucina abitabile il terrazzo veramente molto molto grande la disco che c'è anche un posto autocoperto è anche un immobile interessante per chi ha dei problemi che deve utilizzare la carrozzina perché dal posto auto si entra direttamente nella casa con soltanto due gradini due gradini che possono essere ovviamente eliminati con una piccola rampetta ecco questa è l'altra camera da letto molto grande quello che vedete non è umidità ma è una condensa che si viene a creare tenendo ecco questa qua che vediamo sulla sinistra tenendo un mobile per tanti anni si crea una condensa una condensa mi mette di un po' di anni un po' bruttina da vedere ma è ovvio che questo capita soprattutto in zone marine che è una cosa abbastanza normale i proprietari non hanno neanche pulito perché intanto è inutile basta soltanto togliere e grattare, dare il bianco e tutto torna come prima con questo noi abbiamo terminato io vi ringrazio di aver visto questo video con Scudorè e vi lascio con le playmetrie e le trasformazioni Scudorè protegge il tuo sogno immobiliare Scudorè Scudorè